Ho visto però che nel 20 ci possiamo anche parlare. Senti, mi raccontaci che cosa ti ha portato a Vicenza, perché hai lasciato Cittadella dove hai fatto una periore strafosserica e c'era anche un buon legame con Cittadella. Che cosa ti ha portato? Tanto grazie del benvenuto. Sì, vengo da tre anni comunque belli, importanti con il Cittadella, dove sono cresciuto tanto. Infatti li ringrazio e avevo bisogno di una nuova sfida. La società e la proprietà mi hanno voluto e ho percepito la fiducia e la voglia di volermi qui. Per me è stata facile come scelta, quindi vengo in una piazza importante e bella. Poi ero qui vicino, quindi già so tanto. Quindi la scelta era facile. Sono contento e non vedo l'ora che inizia il campionato e di iniziare questa nuova avventura. Hai detto che la scelta è stata facile, però fino al giorno prima sembravi destinato al Brescia. Puoi raccontarci qualcosa, qualche retecina? Sì, diciamo che in quella settimana ho preso del tempo perché ancora dovevo smaltire la passata stagione che è finita un po' così. Quindi è stata più che altro una scelta mia personale, non era questione di altre squadre. Ho preso del tempo per me, indipendentemente da quello che era poi il mercato. E poi non ho avuto dubbi, sinceramente. Sono venuto qui volentieri e sono felice di essere qui. La conoscenza della proprietà è inciso nella scelta? Sì, sicuramente sì. Conoscevo tanti ragazzi, conosco qualche persona. Quindi sì, sono contento e un po' inciso. Quindi sì, un po' sì. Come sono stati i primi allenamenti, hai già scelto in campo, adesso anche il sabato è una passiva, è molto bello, in questa regione è semplicevole. Raccontaci un po' l'approccio con i compagni e anche un po' del campo. Cioè, come ti sei sentito fisicamente, che cosa puoi dare a questa squadra? Sì, abbiamo iniziato, io sono partito una settimana dopo, però mi hanno accolto subito benissimo. Il gruppo, sapevo che era un gruppo bello e unito, quindi per me è stato facile. Mi sono trovato bene e stiamo lavorando, personalmente sono ancora un po' indietro fisicamente, però il ritiro è fatto apposta per quello. Quindi ho modo di lavorare, non tantissimo, perché fra i 15 abbiamo già il primo impegno ufficiale, però mi sono inserito bene il modulo, comunque lo stesso che facevamo l'anno scorso a Cittadella, quindi non ho grossi problemi. Sto cercando di assumere proprio velocemente quello che richiede il mister, quello che sono poi le caratteristiche della squadra e adattarmi e cercare di dare il massimo per aiutarla a fare belle cose. Se ti senti una mentale con possibilità di andare anche a rete, quali sono le più caratteristiche positive? Magari conosciamo, quali sono i difetti? Sicuramente un aspetto su cui mi sono messo già degli obiettivi che voglio migliorare è sicuramente la fase di essere meno irruento, però ci ho lavorato tanto anche in questi anni, quindi come difetto è quella, la fase di interdizione, la fase difensiva, essere più ordinato. Alcuni aspetti che poi non li svelo tutti, perché se no vengono fuori solo quelli, però c'è tanto da lavorare e tanto da crescere. Tu finora hai giocato in squadre in media dimensione, con un po' anche la scelta limitata, questa è la tua prima esperienza con una squadra che ha anche un giocato passato di rilevola nel calcio. Sì, esatto, infatti è anche una scelta che ho voluto e uno step successivo per la mia carriera che ricercavo, anche per avere, non che non l'avessi a Cittadella, però con tutto il rispetto qui c'è un ambiente più grande, che pretendono giustamente di più, una difoseria importante, quindi è una sfida che volevo, che ho cercato e sono contento di essermela presa. Tutto questo aspetto, anche con te il mister ha fatto un po' di, diciamo, pregno, psicologico, per capire dove sei arrivato. No, 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 sì, sì, nel senso mi ha detto che comunque la conosce benissimo poi il mister, quindi sicuramente mi ha parlato bene, già mi ha illustrato un po' la situazione, quindi sono concentrato e so quello che devo fare, e quello che vogliono e che dobbiamo fare quest'anno. Senti, ci sono forse aspettative, e si chiede in questione di responsabilità, no? In un mercato in cui spesso i giocatori vengono scambiati in prestito, a fine o a fine del contratto, spendere quello che ha speso la proprietà per un cedro conquista, non per un'opera punto, vediamo il Monza, è un attestato di stima e importante, però che dovrai poi tu cercare di... Assolutamente. Giustificare, che risultati ti pesa questo ruolo a governare? No, è il nostro mestiere, io lavoro per quello e darò il massimo consapevole, che comunque mi hanno voluto fortemente, la mia scelta è ricaduta qui, quindi darò il massimo, farò di tutto per ripagare questa fiducia, e per migliorare poi quello che è il risultato di squadra e di tutto l'ambiente. Il calendario ti mette subito a con un po' 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 un po'. Come avrai pensato? Un po' me l'aspettavo, ti dico la verità, perché comunque ne avevo parlato, ancora mi sento con alcuni compagni, quindi fa piacere, li ritrovo subito, è un piacere rivederli, perché comunque ho fatto tre anni importanti, e sarà bello, però sono concentrato sinceramente sinceramente più adesso al Vicenza farà, li saluterò magari dopo la partita se andrà bene. Vediamo, non credo perché comunque mi hanno insegnato tanto, sono cresciuto tanto e esulterò dentro ma intanto pensiamo a vincere e far gol poi vediamo. Sì, ancora sono in decisione, però a giorni dovremmo decidere, quindi ancora non lo so. Come hai trovato la squadra? Come è a livello di squadra? Beh, ho percepito tanto entusiasmo, tanta voglia di migliorare quello che era già qui l'anno scorso, di migliorare quello che è stata la stagione scorsa, quindi c'è tanto entusiasmo, tanto voglia di crescere, di far ambientare tutti subito e di capirci tutti l'uno con l'altro. Quindi sono positivo e c'è da lavorare tanto e sarà un campionato difficile, quindi dovremmo conoscerci meglio tutti subito e poi affrontare spensierati e cattivi tutte le partite che ci saranno da giocare. La Serie B ci insegna che bisogna avere meno momenti, meno momenti no, quindi dovremmo avere più costanza. E lavorare e dare sempre il massimo, poi i risultati se lavori bene li raggiungi. Dobbiamo essere tranquilli, avere un obiettivo chiaro in testa e lavorare e martellare tutti i giorni per raggiungerlo. Quindi poi ci devi qualcosa di tempo fuori del campo, non so se hai qualche altra passione, sei seguendo i giochi pubblici, c'è qualche... Sì, li sto seguendo, li seguo come li seguiamo tutti, quindi mi piace tanto vedere gli altri sport come altre serie tv, mi piace tanto stare a casa, mi piace cucinare, mi piace... Ora ho il nuovo cagnolino, quindi è un po' impegnativo perché era il mio primo, quindi mi sto adattando. Comunque ho tanto da fare. Beh, non sono tanto social, nel senso ci provo, mi piace, mi diletto, però sto cercando perché comunque negli ultimi anni è diventato una sorta di curriculum delle persone, quindi cerco di curarlo e di con attenzione usarlo, sì.